Torna in campo l'Inter, cari amici di Unibet, e lo fa in una partita decisiva, importante, in chiave terzo posto. Le ultime speranze sono legate, passano da una vittoria contro il Napoli. Napoli reduce dalla bella vittoria contro il Verona senza Higuain. Higuain mancherà anche a San Siro, non mancherà Mauro Riccardi. Mauro Riccardi è al centro dell'attacco dell'Inter, dovrebbe rientrare a centrocampo con Degubbià. Mancini sa che solo con una vittoria si può pensare di dar fastidio alla Roma. Io confido nei tre punti.